E' stato completato alla vigilia dell'insediamento delle commissioni e degli esami di maturità il piano della Regione Campania Scuole Sicure. Screening di massa con tamponi dedicato al personale docente e non docente. Il totale del personale sottoposto a tampone su base volontaria era di 12.862. La percentuale di adesione è stata del 60,3%. Il risultato è nessun positivo. Lo screening per i commissari degli esami di maturità e per tutto il personale scolastico è stata un'iniziativa unica in Italia, ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E' la prima operazione del programma che proseguirà in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico e che prevede il monitoraggio sanitario del personale docente e non docente per dare tranquillità alle famiglie. E' una scelta della Regione, ne siamo orgogliosi ed è stato un atto di responsabilità e di rispetto per tutto il mondo della scuola che ha vissuto momenti difficili in questi mesi e che ha registrato l'impegno straordinario del corpo docente e del personale a cui va la gratitudine della nostra Regione. Com'è del tutto evidente, la nostra è una posizione opposta a quella del Ministero dell'Istruzione, che ancora una volta dimostra atteggiamenti o irresponsabili o provocatori verso i docenti e le famiglie. Un ministro che propone l'apertura dell'anno scolastico il 14 settembre per chiudere poi tre giorni, poi riaprirle e richiuderle ancora in qualunque paese civile sarebbe invitato a dare le dimissioni. Lavoreremo nei prossimi giorni per quello che sarà possibile per evitare questa vergogna.